Inizia la ricca proposta di eventi natalizi della provincia di Pesaro Urbino, quella apparecchiata dal lavoro di squadra delle Proloco unite dalla rete del Natale che non ti aspetti. Festività 2023-2024 che verranno ufficialmente aperte sabato 25 novembre alle 10.30 con taglio del nastro a Candelara. Un borgo in cui Candele a Candelara festeggerà la cifra tonda della ventesima edizione in due decenni inquestata fra i protagonisti fondatori del Natale che non ti aspetti è inquistata un precursore del movimento dei mercatini natalizi nell'Italia centrale con un evento tuttora senza uguali nel panorama nazionale. Abbiamo visto fin dall'inizio che davamo una diversità della manifestazione tutta concentrata sulle candele, sul sentimento e sulla passione per le tante famiglie con bambini che hanno partecipato fin dall'inizio con grande successo. Partiamo il 25 e il 26 di novembre per poi proseguire per altri tre weekend 2, 3, 8, 9, 10 e concludiamo con il 16 e 17 dicembre perché così riusciamo a distribuire al meglio anche la partecipazione perché voglio tranquillizzare in particolare i pesaresi che effettivamente riusciamo a controllare gli arrivi e le presenze soprattutto parlo di pullman, di camperisti eccetera ma così non avviene come quello che magari è successo anni addietro per cui ci dicono un po' spaventati ma veramente c'è troppa folla. Il primo ringraziamento è ai volontari e anche ai residenti del paese di Candelara che con tanta pazienza ancora sono contenti di dare il loro contributo sapendo che avranno delle loro difficoltà per i weekend in cui abbiamo queste manifestazioni. Per il suo ventennale Candela Candelara si regala un giorno in più con ben nove giornate che avranno sempre il loro clou alle 17.30 e alle 19, orari in cui avvengono gli spegnimenti di tutte le luci artificiali in un borgo che viene ammantato solo dall'atmosfera natalizia della luce fioca di migliaia di candele. Attorno al tema delle candele si sviluppa poi un mercatino unico nel suo genere accompagnato da tante attrazioni per i bambini. Oltre naturalmente alla casetta di Babbo Natale dove vanno a consegnare la loro letterina ma giochi storici di legno e addirittura la novità di quest'anno è legata ad una giostra azionata pedalando una bicicletta. Candela Candelara stringe anche una sinergia con l'Iceo Artistico Mengaroni di Pesaro che sarà parte integrante degli allestimenti del borgo con quattro installazioni alte due metri dislocate per Candelara. Abbiamo accolto appunto subito l'occasione di partecipare a questo evento così importante e abbiamo deciso di far lavorare i ragazzi appunto della Quinta B nel laboratorio di arti figurative e viste le tempistiche e la grandezza appunto delle opere da realizzare abbiamo deciso di mixare arti tecniche tradizionali con tecniche digitali. Quindi sono state realizzate queste quattro pannelli che in Forex sono stati stampati appunto su Forex e sono stati realizzati appunto dai ragazzi per metà con la colorazione digitale e per metà con la tecnica della chiaroscuro con grafite su carboncino. È stata un'esperienza molto piacevole per quanto lavorare sia digitalmente una cosa nuova ma anche manualmente è sempre emozionante.